Per quanto riguarda l'impatto anche delle variazioni, segnalo che dato che noi emetteremo degli strumenti con scadenza molto breve, quindi a 6-12 mesi rispetto magari a quelli che sono in questo momento sul mercato, troviamo anche i covered warrant a 15-20 anni addirittura sul mercato italiano, l'aggiornamento frequente delle quotazioni è ovviamente un vantaggio, data la maggiore sensibilità di opzioni più corte alle variazioni del sottostante. All'interno della pagina prodotto troviamo sia ovviamente le informazioni generali che sono quelle che trovate anche sugli altri certificati, quindi la tipologia di opzionalità, il mercato di quotazione, la scadenza, lo strike che è ovviamente il livello al di sopra del quale per le call e al di sotto del quale per le put si esercita l'opzione. Troviamo la parità che è la stessa delle opzioni sull'idem che è 10.000 punti per quanto riguarda il Fuzzimi, bell'ultimo giorno di negoziazione. Le caratteristiche proprie invece dei covered warrant sono la leva, quindi di quanto effettivamente il mio covered warrant va a leva rispetto all'investimento diretto sul future o comunque sull'indice, ovviamente con uno strike a 20.000 punti, quindi con un'opzione che è leggermente out of the money, indicata per l'8%, abbiamo una leva di 9,54%, nel caso in cui avessimo uno strike più basso avremmo ovviamente una leva più contenuta. Francesco, ma una domanda che magari si chiedono anche gli amici a casa, nel concreto qual è la differenza fra un Turbo Certificates, visto che ne abbiamo parlato spesso di Turbo Certificates, ricordiamo sono quei certificati a leva che hanno una leva dinamica e appunto un covered warrant, in primis a mente mi viene in mente il theta, dunque il fattore temporale che non va a incidere sul Turbo Certificates, mentre inevitabilmente va a incidere sul covered warrant, ma nello specifico quale sono le differenze fra i due strumenti? Sicuramente la questione, il fattore temporale è importante quanto più andiamo a differenziarci come scadenze, quindi con il Turbo andiamo sempre con emissioni molto brevi, tra i sei mesi sui covered warrant in questo momento siamo un anno, magari porteremo anche le scadenze un po' più lunghe, quindi c'è una questione di fattore temporale, di impatto del fattore temporale sul prezzo dello strumento e anche di scadenza del titolo, ma l'impatto sostanziale per quanto riguarda la differenza tra Turbo e covered warrant è l'impatto della volatilità, poiché per quanto riguarda il Turbo non c'è un vero e proprio impatto di variazione della volatilità implicita sul prezzo dello strumento, abbiamo una sorta di margine che è il premio per il rischio gap che va ad aggiungersi rispetto al prezzo teorico del certificato, per quanto riguarda invece il covered warrant la volatilità ha un fattore essenziale, quindi all'interno del prezzo del covered warrant ha un impatto la volatilità e possiamo anche vedere come, ad esempio in questo momento non è ancora presente, ma inseriremo anche la sensibilità alla volatilità, quindi il vega fondamentalmente, quindi la derivata prima del prezzo di un'opzione rispetto a variazioni della volatilità, le possiamo anche ritrovare all'interno del sito. Ora, noi abbiamo introdotto, magari questo lo faremo vedere un po' più avanti quando avremo più informazioni, un calcolatore, una simulazione del prezzo del covered warrant che considera non solo variazioni del delta ma anche variazioni della volatilità. L'amico Alfredo chiede se puoi rispiegare che cos'è il delta. Sì, non l'ho spiegato, quindi hai fatto bene a segnalarmelo. Il delta non è altro che la sensibilità del prezzo del covered warrant rispetto a variazioni del sottostante. Fondamentalmente cosa vuol dire? Qui quando abbiamo un delta di 0,27, quindi del 27%, questo valido per quanto riguarda qualsiasi tipo di opzione, che è quotata anche magari quella sull'idem, un delta del 27% vuol dire che se il sottostante varia di un punto, la call in questo caso varierà del 27%. Il valore del covered warrant varierà del 27%. Esattamente.